Crescere giocando, tirare i calci ad un pallone per disintossicarci dopo un lungo periodo sui banchi di scuola, ma soprattutto da tutti i marchi ingegni elettronici che pervadono sempre più la vita dei giovani. È con questo spirito che una quarantina di ragazzini dagli 8 ai 13 anni ha accettato di trascorrere la prima parte delle vacanze estive al campo sportivo di Poggioli Dentipiano, dove per i prossimi dieci giorni si svolgerà un raduno dedicato allo sport preferito dai bambini. Una delle proposte offerte dal territorio per il tempo libero dei più piccoli. Il tipo di attività è sportivo, ludica, nell'arco della settimana ci sarà una giornata di riposo in piscina oppure rafting. Si comincia la mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 5, a mezzogiorno si va a mangiare, si sta un paio d'ore nel parchetto a riposarci un po' e poi si continua. Alle 4 e mezza fa merenda, la doccia e i consegni ai genitori. L'iniziativa organizzata di comune accordo fra l'associazione sportiva Penta come la polisportiva Poggioli Dentipi vuole essere un'occasione di crescita non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto sotto il profilo umano. Stare insieme nel rispetto delle regole spiega al presidente della Penta come Eugenio Formolli è uno degli aspetti fondamentali che sta alla base di qualsiasi attività, da quella sportiva a quella lavorativa. Il camp di questo tipo dove ci si trova a fianco a fianco per tutta la giornata sono la palestra di vita migliore oltre che banco di prova per migliorare le proprie capacità di adattamento ai diversi contesti. Crediamo che momenti come questi di aggregazione all'area aperta siano sicuramente molto più formativi e molto più importanti per crescere, per formarsi e per apprendere tantissime cose al di là dell'aspetto tecnico. Il camp viene promosso da Penta come assieme alla polosportiva Poggioli Dentipi in questa bellissima struttura per cui crediamo che è anche l'area tecnica sicuramente di assoluto valore visto che abbiamo Luca Colombo allenatore del Sondrio Calcio Franco Marelli allenatore dei portieri del Sondrio Calcio per cui crediamo di poter offrire un servizio sicuramente degno del nostro nome.